Mi mancheranno tutti, dalle persone con cui ho lavorato, con cui ho avuto sempre molta collaborazione, ho fatto negli anni una buona squadra e soprattutto dei bravi operatori, nel senso che essendo una discarica in rilevato ha una complicazione tecnica e quindi esige del personale che lavori parecchio su macchine operatrici e anche macchine molto grandi. Noi lavoriamo con delle macchine da 30 alle 50 tonne, quindi lavorare su versanti, lavorare su scarpate richiede molta concentrazione, ma soprattutto la squadra, nel senso che bisogna lavorare con una certa armonia e quindi lavorare tranquilli proprio per anche la pericolosità, lavorando sempre in sicurezza e lavorando con anche una sensibilità soprattutto, perché parliamo di rifiuti e quindi la sensibilità nel lavorare bene è importante.